Gli spiriti di Getalsa, Biagio Filardi. Coloro che piangiamo morti sono nel più del vivere, sono nell'esistere. A noi vicini come mai potremo esserlo in vita? Questo viene ripetuto continuamente nei contatti. E bramano di avvisarci che essi ci sono ancora, ci sono più di prima. Sono quelli inoltre che più di tutti anelano ad aiutarci nelle nostre vicende terrene, ma dovendo però da noi essere autorizzati a farlo. Io chiesi ancora, come fanno ad aiutarci, in che maniera? Ogni uomo è seguito da un angelo, mi rispose Archia. Gli angeli, quando interferiscono nelle vostre vicende, lo fanno sempre e soltanto per fini spirituali. Spiego. Quando entrate nella vita è come se ci cascaste dentro. A riguardo di quella caduta lo spirito si compromette e voi divenite ignari, inconsapevoli e viventi dunque nell'imprevedibilità. Siete tali e quali a dei fanciulli che si incamminano a piedi nudi nella foresta, che non è certo priva di pericoli. Ecco, potrebbe capitarvi una disgrazia, ma un angelo soffia sul modo moto-tempo e la disgrazia si evita. Però potrebbe pure lasciare che la disgrazia capiti. Tutto, infatti, dipende da ragioni spirituali, poiché il bene a cui l'angelo guarda è oltre il vostro concepire. I familiari sono nell'Ade, ancora molto legati ai propri cari viventi, per quell'amore che li legava in vita. Così hanno voglia di aiutarli e sebbene non possano far per loro quello che da loro stessi deve essere fatto, possono però dargli sostegno e forza per farlo. Comunque, tante volte essi hanno assunto la mano dell'angelo per aiutarvi pure nelle cose che fanno apprezzare il gusto della vita. Molto altro mi riferì a Archia, ma riguardava per lo più mie vicende private e dunque non sarebbe di alcun interesse parlarne. Fatto sta che uscì dalla casa di Getalsa, confuso e inebriato per le informazioni ricevute, sulle quali già mi vedevo impegnato a cercarne, poi come il bandolo di una matassa ingarbugliata. Così l'Ade, dove vanno felici coloro che attraversano il fiume della vita, è soltanto un'ombra del regno degli dèi. E a un certo punto quella felicità, quell'illusione, quel tempo finisce e comincia a farsi metallica anche quella realtà che dalla luce aerea torna solida, indurita di sensazioni che c'erano un tempo.